Musica Ciao a tutti raga e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo su Turbo Dismount Prima di cominciare vi volevo avvisare che a breve farò un vlog dove spiegherò un paio di cose Detto questo cominciamo subito Per chi non conosce Turbo Dismount non sa cosa si sta perdendo Ciao bello, d'ora in poi ti chiamerò Carlo Dunque dicevo per chi non conosce Turbo Dismount Questo gioco in pratica consiste nel farsi la bua Tanta bua Bua del tipo questo Minchia che cosa non è Tutto a posto Carlo? Sembra che stia danzando Hai mai pensato di fare il modello Carlo? A proposito raga questa è una versione demo quindi non sono tutti i livelli Sono soltanto tre e io voglio provare a fare una cosa Piuttosto folle direi Seriamente Carlo? Tu dovresti fare il ballerino Questa è bellissima Raga sinceramente a voi non va di vedere come va a finire? E allora andiamo Quel triciclo è un figo assurdo Carlo il pompiere paura non ne ha Devo assolutamente provare questa cosa Boom headshot Carl Non è normale sta cosa qua Ok raga io direi di passare al secondo D'accordo Carl è il tuo momento Vai sul tuo triciclo e rendimi orgoglioso Vai 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 guardatelo Mi hanno fottuto la bici Mi dispiace Carlo Ehi baby lo viene a fare un giro con Carl? Raga voglio riuscire a tutti i costi a passare dall'altra parte indenne E' tipo mission impossible però ce la voglio fare Però facciamolo in uno stile un po' diverso Così va benissimo Pronti via Non mi do per vinto Vero Carl? Vero D'accordo proviamo a cambiare direzione Pronti Via Minchia al massimo della velocità Vai 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 Sì Carl? Sì? Sei un fottuto mito Era una bella giornata E mentre Carl restava seduto proprio su un frontale del camion dei pompieri Il camion dei pompieri partì E Carl si fece molto male Oppure no Come cazzo è messo il camion dei pompieri? Ok raga voglio tentare di fare un'ultima cosa poi cambio mappa Pronti? Via Verso l'infinito e vaffanculo Verso l'infinito e oltre Carl? 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 E' tutto a posto? Carl? Rispondi? Carl? Carl? Va bene raga facciamo l'ultimo Bella macchina Grazie Ci ho lavorato parecchio Quanto sta di listino? Ehm Credo 2 dollari e 45 Aspettate Aspettate Ehi Ehi Figli di puttana D'accordo raga Facciamolo serio Voglio proprio vedere se mi batte stavolta Vai 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 Ah Toss Stronzo Oh cazzo Troppo veloce Troppo veloce Troppo veloce Au E intanto l'auto se ne va a puttane D'accordo raga Ehm Io direi che faccio l'ultima cosa E poi finiamo qua il video I believe I can fly I believe I can Cazzo superi Wow D'accordo raga Io direi che con questa bellissima immagine di Vic Che balla Danza classica Posso concludere qui il video Come al solito ovviamente vi invito a iscrivervi E a lasciare un mi piace alla pagina facebook Il quale link lo trovate qua in descrizione E ci rivediamo al prossimo video Io sono Tram7 e questo è il mio canale Grazie a tutti